Bentornati a tutti sul mio canale, io sono MajinBoobs, nuovo showcase e stavolta l'avete scelto voi dal post in community. Ho messo un sondaggio infatti su quale showcase volevate che portassi per primo. I due contendenti erano Team Bardock, ovvero un team composto da Goku, Bardock e Radish, oppure il Team Vegeta Family con all'interno Trunks Kid. Ha vinto il Team Bardock. Quindi raga, non perdiamo altro tempo, vi chiedo gentilmente un like di supporto qua subito così sulla fiducia. Se ancora non l'avete fatto e siete nuovi del canale, vi chiedo gentilmente di prendere in considerazione l'idea di fare l'iscrizione. Detto questo raga, sigla. Eccolo qua, Team Bardock e figli. Abbiamo chiaramente Bardock Red, Goku Super Saiyan 4 Full Power, Radish Zenkai, penso che siano un attimino i personaggi che andrò a utilizzare più frequentemente tra tutti i sei presenti in team. Dopodiché abbiamo Goku della saga di Radish, messo principalmente per la sua Z-Ability. Bardock Giallo, penso di usarlo magari in qualche match lì a 14 stelle. Non sono mai riuscito a farlo rendere degnamente, vediamo se finalmente riusciamo a fargli combinar qualcosa di buono, almeno con i suoi due figli. E per concludere, Radish Verde, che lui onestamente non penso che entrerà mai in campo, ma ci potrebbe essere qualche sorpresa, vedremo. Il team è questo, gli equipaggiamenti, li vedete? Penso che sia il momento di andare in PvP, via. Partiamo contro un team Saiyan. Ok, Vegito, ci piace, ci piace l'inizio. Nice. Andiamo di Blast, potrebbe entrare quello viola. Da un momento all'altro. Eccolo. Vediamo se saltella. Sì. Ok, 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 pugnetti d'allontanamento. Tacco il bro, fammelo. No. Peccato. Prevede una Kefla in tempo zero. Dentro, Goku Super Saiyan 4 FP. Ok. Ok, ok, ok. Va bene, l'ha rischiata, ma ha fatto bene. Ah, questa mi è partita proprio in ritardo. A caso. Erroraccio. Ok. Dentro Radish. Radish. Vediamo se ci spoppa anche l'ultimate. No. Uh, mi ha attaccato ormai. Rischio, rischio. Bravo, Katte su un sacco. Niente, raga, Radish. Purtroppo qua è andato. Ok. Presa. 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 E abbiamo bisogno d'HP. Entrerà Vegito sicuramente. Ma abbiamo bisogno d'HP, appunto. E potremmo anche switchare su Bardock, trasformare. Vediamo, vediamo, vediamo. Uh, che brutti danni. Ok. Non bene. Ok. Dentro Bardock. Fermiamolo. E trasformiamoci pure. Bardocko. Preso. Ok. Fammi vedere un po' di danno con queste strike. Vendica uno dei tuoi figli. Presto mi sa anche l'altro. Ok. Ah, shit. L'ho atteso un po' troppo. Ok. Dobbiamo sacrificarci Goku. Va bene, va bene. Situazione tesa qua, raga. Via. Facciamolo fuori così. Eh, dai. Nien di strike. Proviamo così. Doppia blast più special move. Ok, danni ci sono. Perché devo avere questa sfortuna? Ok. Ok. Va bene. Ok. Ok. Ok, 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 bardock. Figli più che vendicati. Fuh. Gonzenkai contro padre, zio e nonno. Un casino qua, raga. Allora. Va bene, le tue pietre, Goten. Non ci fanno effetto. Non ci fanno effetto. Ma nemmeno queste strike fanno un grande effetto. Quindi proviamo a switchare su bardock. Ok, pugnetti subito. No, niente da fare qua. Non sono chill questi danni, raga. Non sono per nulla chill questi danni di Goku Kaioken. Nice. Ok. Occasione troppo ghiotta, raga. Togliamocelo subito di mezzo, Goten. Cattiveria sul figlio. Ok, ok, ok. Goten è andato. No, non mi è partito in tempo. Altra blast, ti prego. No. Oddio. Oddio. Shield, ti prego. È il tuo povero nonno, questo. Non si ferma più, raga. Lo zio mi sa che è andato. Sì. Ok. Nice. Lasciamogli anche questo. E dovremmo averlo fatto fuori. Ok. Resta solo il piccolo matto. Ok. Aia. Scoppiato. Per forza vado di Racing Rush, raga. Cosa dovrei fare contro questa bestia? E' l'unica possibilità di vincere. Buono. Buono, buono, buono. Bravo Bardock che ci salva da ogni situazione. Prossimo match. Vegeto Family. Ci portiamo Radish e doppio Bardock. Vediamo se la scelta pagherà bene. Ok. A fatica lo allontaniamo. Blast contro Blast. E alla meglio lui. Ok, tankiamo. Più o meno. Ok, ok, ok. Tank contro tank, ma lui tanka molto meglio di me. Va bene. Ah, ero pure pronto per premere una strike. Chill, 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 chill. Ok, vegeta verde, immagino no. Ma, 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 ma. Smettila di attaccarmi per un secondo, please. Ok. Oh, no, ne ancora. Basta, bro. Fermati un attimo. Ok. 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 Erroraccio. Uh, che male. Radish. Per forza. Mmm. Mmm. Boh, strike. Manca solo la verde. Ok, non sta andando troppo bene, purtroppo. La line-up è quello che è, raga. In più non smette mai di fare cose. Oh, te lo pigli in faccia sto Racing Rush, però. Eh, sì. Troppo, troppo aggressive. Buono. Ciao, vegettone. Eh, per una volta non mi ha attaccato subito. Bella. Ma, ma, indietreggiare subito? No, troppo tardi. Uh. Gioco? Ok, ce la prendiamo. Non ci dovrebbe fare troppi danni, comunque. Easy peasy. E ci perdiamo due carte, vabbè. Ah, subito quello Swish. Ma faccio in tempo a fare qualcosa io? Non sembrerebbe. Oh, hai rotto. Ok. Plastami. No, peccato. Fermati. Vai, bloccato con me. Vabbè, ma, raga, non è possibile quello che mi sta facendo sta persona. Cos'oghia? Cos'oghia? Le carte e gli attacchi infiniti. Shikoto. Shikoto. E ora te lo scoppio, quel Trunks. Oh, mamma mia, proprio. Ah, la Couturia. Bardock Family, meglio di Vegeta Family. Ricordatevelo. Prossimo match. Siamo pronti a sputare sangue, raga. Avete visto che team show di fronte. Lagga pure, ma perché? Che cazzo è sta roba? Perché deve laggare pure così? Che c'è il team di Cristo e lagghi anche. Va bene. Ok. 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 Non riesco a giocare, raga. Vedete come sta andando male. Ok. I danni di Radice sono sempre ok, eh. Ok. Mamma mia, raga. Che difficoltà sto match. Via, via, via. No, qua mi ha preso purtroppo. Uh, e qua mi squaglia qualcuno. Forse è una scelta stupida, però facciamo andare Goku. I due blast, non penso sia blast, infatti strike. Va bene, neanche la fortuna nel Rising Rush abbiamo. La vittoria è sempre più lontana. No, ciao. È andata proprio. Bardock, tutto nelle tue manine. Come sempre. Ok, partiamo. Va bene. Partiamo e finiamo qua. Ok. Evitiamolo. Cazzo, era solo una special. Avrei potuto anche prenderla. Ok. Ok. Ora però dobbiamo vedercela con l'Ultimate di Gohan. Non è proprio il massimo. Ecco. Ha vinto, raga. Ha già vinto. Niente, raga. Prima che possa perdere il TRP, è meglio fermarsi. Questo team... Non lo dovete giocare, raga. Non dovete giocarlo, perché è il team for fun che non vi farà divertire, ma vi farà solo bestemmiare. Raga, lasciate assolutamente stare questo team. Un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.